Secondo incontro nei locali della Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza a Torino del Caffè Letterario, occasione per conoscere opere di autori ed editori piemontesi che proseguiranno ogni giovedì alle 15.30 fino al 18 dicembre. Questa settimana è stato presentato il libro Non era il Principe Azzurro, i belli del risorgimento, mariti improbabili di Giusea Odiberti, Neosedizioni. L'ingresso è libero sino ad esaurimento posti.